Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Lucca e Ripafratta, i treni sulla linea Lucca-Pisa potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento sono coinvolti quattro treni regionali, tutti i dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!